Siamo con il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, che ci vuole fare il punto sulla situazione dei rifiuti a Porto Empedocle, una situazione che attualmente presenta numerose carenze. Quali le novità, sindaco? Stamattina siamo stati in un incontro con gli operatori ecologici, i sindacati, le ditte innanzi al signor prefetto. Siamo riusciti a trovare un accordo, a farli ragionare sul fatto che in realtà si tratta di un nuovo contratto di appalto, che quindi per il pregresso ce ne occuperemo con il programma di risanamento che è all'ente, ma che si tratta di un nuovo contratto. Quindi in realtà loro, se si astengono dal lavoro, lo fanno in modo davvero illegittimo, perché non avevano ancora nulla che pretende dal Comune sulla base di un nuovo contratto. E poi abbiamo evidenziato quelli che erano i problemi attuali del nostro Paese, della necessità di collaborare. Molti di loro sono in pedoclini. Noi comprendiamo le loro ragioni, il fatto che siano in arretrati di così tanti stipendi. Però loro stessi hanno detto che hanno visto la buona volontà dell'amministrazione, che è stata l'unica a cominciare a derogare loro e a rispettare quanto dovuto e a rispettare i patti. E anzi hanno detto che noi siamo disponibili a cominciare ora stesso, uscendo da qui a lavorare. Infatti stanno riprendendo il lavoro dalla zona, ho inteso farli riprendere dalla zona dei grandi lavori, dove si tiene e si terrà domani il mercato, perché anche lì avevo ricevuto le richieste degli ambulanti che in un periodo di crisi economica avrebbero perso una importante giornata lavorativa. Quindi siamo riusciti questa mattina a risolvere questo problema, cosa non da poco. Altresì c'era l'ulteriore problema della ditta Catanzaro che ci aveva chiuso le porte, perché il nostro comune e le passate amministrazioni hanno sommato un debito di circa 400 mila euro nei confronti della ditta Catanzaro e ci dà almeno fino a martedì, in attesa di nuove determinazioni, di nuove possibilità, la possibilità di conferire rifiuti qui a Siculiana. Quindi il problema è in fase di risoluzione che spero sia definitiva con le deliberazioni che prenderà l'amministrazione coadiuvata, si spera, dal Consiglio Comunale nei prossimi giorni. Quindi a breve sparirà la spazzatura da Porta Empedocle.